La musica è espressione, comunicazione, condivisione e in quanto arte è un riflesso di pura bellezza. Ciao a tutti, io e Andrea siamo prontissimi per iniziare questo viaggio tra la musica, i suoni, l'arte, la pittura. Faremo un percorso per esprimere, per vivere, per rappresentare, per esplorare una musica in tutta la sua bellezza. Diriggiamoci ad Assisi. Assisi.